Permettimi una cosa, visto che è arrivata una domanda dall'amico Luca, come funzionano questi prodotti quando si verifica l'evento barriera? Sì, questi prodotti hanno un livello di knockout che dicevamo prima, in questo caso l'investimento si estingue, il prodotto si estingue e l'investitore incappa nell'intera perdita del capitale che ha investito, questo è chiaramente un evento negativo, però va usato a mio avviso in maniera intelligente, ovvero un livello di knockout mi permette quindi di non avere l'integrazione dei margini e quindi non trovarmi in posizioni scomode con altissima volatilità dove abbiamo avuto titoli che hanno aperto almeno 40 e dover, mi riferisco al caso Brexit appunto, a dover integrare dei margini molto ampi, quindi questo tipo di prodotti per gli investitori anche di privati che hanno una limitata capacità anche di esposizione ai mercati è un elemento fondamentale, è chiaro che io non posso comprarmi un prodotto che ha una distanza da un knockout limitata, nel senso quello è un valore dove io so che perdo l'intero capitale investito ma è anche un livello di protezione, ovvero uno non trovo i margini, cioè non devo rintegrare i margini ma anche due lo scelgo a una distanza tale per cui io ho una ragione o una certezza che non ci arriverà o comunque anche se ci arriva e dove si perde l'intero capitale investito non mi compromette la mia situazione mobiliare in un certo senso, quindi l'invito al knockout che è un evento negativo di per sé perché estingue e fa perdere l'intero capitale investito va usato diligentemente.